Ripercussioni anche per Alghero nel cambiamento di rotta del Governo sul piano previsto per le opere funzionali al G8. Dopo il no definitivo sui fondi a disposizione per la Sassari Olbia, anche per le infrastrutture collaterali ci saranno delle conseguenze significative. Nessuna corsia preferenziale dunque per la circonvallazione, i lavori nell'aeroporto di Alghero e i restanti lotti della Sassari Alghero, con i fondi regionali stanziati dall'amministrazione Soro, ha dichiarato ai microfoni di TGA il consigliere regionale Mario Bruno. Per quanto riguarda la circonvallazione, no, si tratta di fondi regionali, la giunta regionale, la giunta Soro, su proposta dell'assessore Carlo Mannone, aveva già stanziato 4 milioni di euro e quindi quelli rimangono. Il fatto che il Governo, lo ha detto ieri nelle question time il sottosegretario Vito, non ritenga più funzionali e quindi collegati al G8, le opere della Sassari Olbia fanno venire meno anche quella proposta che tra l'altro è stata avanzata non solo da Soro e da Mannoni, ma anche qui in vista da Alghero, dal sindaco Tedde, con impegni precisi da parte del sottosegretario Bertolaso, di inserire anche Alghero la parte che riguardava il primo lotto nelle procedure agevolate, quindi accelerate, del G8. Non si tratta, come per la Sassari Olbia, del venir meno di fondi, che comunque non erano stati previsti per il primo lotto della Sassari Olbia, ma semplicemente non avremo quelle procedure agevolate che ci consentivano di saltare alcuni passaggi e quindi di arrivare presto all'appalto. Così come erano in corso ormai procedure abbastanza avanzate per i lotti della Sassari Olbia, con tante imprese in media già prequalificate per lotto per poter arrivare alla fase esecutiva degli appalti. Ora tutto questo inopinatamente si interrompe, non avremo i fondi, perlomeno non avremo i fondi immediatamente, quindi collegati al G8, quei fondi Cipe che sono stati negati nell'ultima delibera, quindi tutto diventa più difficile e diciamo che soprattutto non sono state mantenute le promesse in campagna elettorale.